Tutti alla sbarra il prossimo 19 novembre. Questa è la decisione del giudice per le udienze preliminari Giuseppe Romano Gargarella al termine della Camera di Consiglio per l'inchiesta sui bagni chimici SEBAC nata all'indomani del terremoto per quanto riguarda la fornitura di tale servizio nelle tendopoli. A sedersi sul banco degli imputati a novembre Marta Dainelli, 45 anni, nativa di Vinci e residente a San Gimignano, ex amministratore delegato dell'azienda certaldese. Con lei figurano anche la responsabile commerciale Cristina Galieni, 38 anni di Empoli, e l'altra indagata, la responsabile amministrativa Sonia Morelli, di 37 anni. Reati ipotizzati sono falso materiale e frode nelle pubbliche forniture. Nel mirino della procura aquilana, la cui inchiesta è scattata in seguito alla segnalazione di un'azienda esclusa dall'appalto, c'è finita la documentazione presentata dall'azienda di Certaldo, la SEBAC appunto. La protezione civile avrebbe ordinato 4.000 bagni scesi poi a 3.200 al prezzo di 79,20 centesimi di euro al giorno per ogni bagno, comprensivi di IVA e di bene quattro interventi di espurgo e pulizia giornalieri. Ogni ospite delle tendopoli quindi poteva produrre fino a 100 litri al giorno di deiezioni solide e liquide, pertanto quattro servizi giornalieri di pulizia dei vici chimici avrebbero comportato una raccorta giornaliera di 3.200 metri cubi di liquami, con successivi viaggi di centinaia di camion e problemi legati allo smaltimento che persino i deputatori abruzzesi avrebbero faticato a lavorare. Un numero di interventi dunque eccessivo secondo la procura. Adesso, chiusa la fase preliminare, con i tre indagati che sono divenuti a tutti gli effetti imputati, si procederà ad incardinare il processo nella sua fase dibattimentale.